Appendino è una sorta di uccello del cuculo, cioè è un personaggio che è entrata nel nido dei passeracci e grillini, ha buttato via gli altri e rimane lei a tenere avanti il sistema Torino, un sistema in cui i Peveraro, i Quaglia, i Pallenzona continuano a prosperare e in cui la povera gente, quella che sta a fianco dei roghi dei nomadi, quella che sta a fianco delle tante sacche di povertà e di indigenza di questo paese, è abbandonata a se stessa. Aveva promesso tutte altre cose, fa l'opposto, aveva promesso che non faceva più centri commerciali a discapito dei piccoli commercianti, sta facendo più centri commerciali lei in nove mesi che l'esperienza dei comunisti in dieci anni. Siamo alla follia, è una donna fedifrega, è una donna imbrogliona, è una donna che crediamo, purtroppo dopo averla fatta votare, che prima libere il suo scranno di sindaco, prima farà un piacere alla città.